Caorle. Un 74enne è stato investito sabato sera a Porto Margherita. Il conducente del veicolo, secondo alcuni testimoni, sarebbe sceso per osservare le condizioni del ferito, poi sarebbe risalito in macchina per tagliare la corda. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 74enne all'ospedale e i carabinieri del nucleo radiomobile che sono riusciti a procurarsi le immagini del sistema di videosorveglianza della Darsena di Porto Santa Margherita per trovare il pirata della strada.